Cari amici di Lano 1, come vedete siamo da Dimensione Bagno in compagnia di Carlo un nuovo appuntamento, appuntamento per la primavera estate diciamo siamo nella nuova stagione che arriva intanto ciao Carlo, ciao Paolo, tutto bene, ciao a tutti speriamo che arrivi un po' il sole quindi vediamo come vanno le cose un po' di curiosità anche da casa sono arrivate quindi sono qua a riportarti le domande i lavori in casa, c'è una stagione particolare, meglio farli d'inverno, d'estate? ma diciamo che i lavori si possono fare durante tutto l'arco dell'anno ovviamente il cliente preferisce la stagione primaverile estiva perché comunque i lavori comportano l'apertura di finestre il passaggio degli operai all'interno dell'ambiente e la temperatura esterna un pochettino più calda e piacevole aiuta a mantenere l'interno della casa non freddo come succederebbe invece in inverno nel caso in cui si lasciassero tutti gli infissi aperti quindi diciamo che il periodo predominante per i lavori e le ristrutturazioni è dall'inizio della primavera, un po' prima quindi fine dell'inverno per tutto il periodo estivo poi comunque si continua anche durante la stagione invernale un po' meno ma... senti un'altra cosa che chiedono gli amici da casa sono l'importanza di un progetto, è basilare? assolutamente sì, soprattutto nella ristrutturazione il progetto è il fondamento su cui si basa poi fisicamente il lavoro quindi l'impresa scopre dal progetto quali sono le lavorazioni che deve fare gli spostamenti degli impianti il posizionamento proprio degli impianti stessi quindi dal progetto si riescono a capire gli spazi che ha a disposizione il cliente e da quello poi si parte con quelli che sono gli inserimenti dei materiali, dei prodotti e dal progetto è quello che scaturisce poi il lavoro effettivo quando si parla di tendenze c'è sempre questa tendenza minimalista il grigio, il bianco, il nero o è cambiato qualcosa? quello diciamo che è sempre un must si sta andando più verso una tendenza un po' più colorata quindi i colori naturali grigio e i colori tendenti al sabbia ci sono sempre però stanno iniziando a entrare nell'ottica della clientela comunque di chi usufruisce poi del cambiamento piastrelle dei cambiamenti all'interno della casa colori un pochettino più pastello quindi gli azzurri, i rosa e i verdi che la fanno ancora più da padrone quindi si sta iniziando a introdurre questo tipo di tonalità anche nell'arredamento stesso quindi si trovano finiture sia nel mobile vero e proprio del bagno ma vediamo anche nelle riviste la stessa cosa si trova nelle zone giorno quindi soggiorni, sale, camere da letto, cucine anche esse che stanno spostando le tonalità dal classico bianco, grigio, nero a colori un pochettino più accesi diciamo così hai accennato il discorso delle riviste e anche si parla spesso di richieste di high tech dentro la ristrutturazione della propria casa c'è già questa richiesta? sì, diciamo che nelle nuove costruzioni la domotica sta iniziando a essere inserita in maniera predominante ci sono ancora dei costi magari un pochettino elevati l'ambiente bagno ne risente meno quindi diciamo che nel nostro caso ci sono pochi elementi che hanno necessità di high tech possono essere i caloriferi quindi magari l'impianto di riscaldamento da poter regolare con il telefonino con le app che ci sono a disposizione o magari specchi con all'interno delle caratteristiche di illuminazione o tecnologiche come l'inserimento della radio o del bluetooth che possono comunque andare a incuriosire il cliente e avere quella aggiunta dell'high tech all'interno del bagno si parla anche spesso e molto di rispetto della natura rispetto dell'ambiente i prodotti oggi rispecchiano questa filosofia? si sta spostando molto su questa caratteristica il mercato quindi diciamo che le aziende sono molto più attente ci sono molte certificazioni molte aziende si freggiano di avere certificazioni di risparmio energetico di rispetto della natura quindi molte aziende di produzione si stanno comunque attrezzando per far sì che quelli che sono diciamo i disturbi ambientali della loro produzione vengano in qualche modo riqualificati quindi sì l'utente finale devo dire che pochi hanno ancora questa percezione questa sensibilità però diciamo che speriamo che si vada su quella direzione mi è capitato di sentire un'intervista alla radio un'intervista di un architetto che diceva sì gli ambienti oggi devono essere caldi e accoglienti cosa vuol dire? nell'architettura vuol dire tante cose diciamo che così come nel bagno quando si dice un ambiente caldo non è solo per la temperatura che in realtà sarebbe il caso che lo fosse soprattutto nel bagno nella stagione fredda però lo si diciamo percepisce più per un discorso di sensazioni di colori di materiali che all'interno del bagno o all'interno di qualunque altro ambiente fanno sì che la percezione sia quella di un ambiente magari naturale che ci fa stare bene con il nostro benessere adesso vanno anche di moda le texture metalliche no? sì difficili da abbinare però voglio dire vanno alla moda si sta spostando tanto soprattutto ha iniziato la rubinetteria quindi il prodotto che più si caratterizzava per il colore era il rubinetto che andava molto di moda nel colorazione nere adesso molte aziende hanno inserito all'interno tante finiture ma parliamo in maniera trasversale quindi dal classico colore a finiture metalliche un po' particolari e a ruota stanno arrivando anche le aziende dei box social le aziende di accessori che stanno inserendo anche al loro interno queste finiture che possono essere il bronzo il rame l'oro rosa veramente tante altre ci sono 15-20 finiture che stanno andando bene sul mercato e si cerca di fare all'interno del proprio ambiente un filo conduttore con queste finiture che si riprendono su tutti i vari prodotti i vari accessori che ci sono all'interno del bagno però sì è una finitura sono finiture diverse che stanno un attimino prendendo piede senti un'altra mia curiosità invece doccia o vasca perché se ne parla sempre e non si riesce mai a capire se poi in realtà la gente ormai vuole solo la doccia o c'è qualcuno che ancora vuole la vasca è il grosso dilemma dell'ambiente bagno diciamo che la vasca un po' per il discorso che facciamo prima del risparmio energetico si sta utilizzando molto meno c'è ancora chi comunque predilige questo elemento predilige la relax che all'interno di una vasca si riesce ad avere quindi farsi il bagno prendendosi il proprio tempo e ovviamente il tempo in questo caso è l'elemento fondamentale perché una doccia è molto più veloce molto più sbrigativa consuma meno acqua posso avere ambienti doccia decisamente grandi e quindi confortevoli però se sono amante del bagno e della vasca prediligo ancora quello diciamo che se dobbiamo fare una percentuale matematica siamo su un 70-30 quindi sette docce contro tre vasche c'è forse anche la questione della metratura magari sì nelle case nuove la dimensione dei bagni si sta riducendo e quindi la doccia è sicuramente più facile da inserire rispetto a una vasca la vasca sta diventando un po' un oggetto di design e quindi chi ha lo spazio per poterla inserire magari la inserisce più perché è bella che non perché è funzionale o la utilizza senti Carlo io volevo anche spezzare una lancia in favore di dimensione bagno perché siete una realtà che esiste da oltre 30 anni sì quindi perché si sente spesso anche noi facciamo il bagno a quella cifra e poi magari il bagno non viene proprio fatto a regola d'arte d'arte il vostro servizio è un servizio a 360 gradi dal progetto a seguire il cliente però diccelo tu noi forniamo pacchetto completo quindi per noi il cliente viene seguito dall'inizio quindi dalla presa misure magari si presenta in showroom con una piccola bozza di quelle che sono le misure che servono e sono necessarie per iniziare il discorso col cliente capire la dimensione del suo bagno iniziare a fargli un progetto un preventivo che poi comunque viene diciamo verificato dal nostro tecnico che esce in casa del cliente verifica le misure e da lì si mette giù il progetto esecutivo che poi la nostra impresa eseguirà all'interno della casa del cliente sempre seguito però dal nostro tecnico che giornalmente segue il lavoro e quindi verifica quelli che sono le istruzioni da dare all'impresa ma anche comunque la consecuzione dell'elaborazione delle manodopere che devono entrare all'interno della casa del cliente Carlo ha detto showroom io vi invito a venire personalmente a vedere lo showroom perché è un signor showroom io penso che una scelta del genere siete in pochi ad averla penso in Italia non è che ci lavoriamo molto e siamo diciamo orgogliosi di poter avere all'interno della nostra showroom comunque una serie di prodotti che aiutano nella scelta del cliente ma anche a capire un po' quelle che sono le tendenze e quello che può essere realizzato nel proprio ambiente Carlo io ti ringrazio anche per oggi spero che abbiamo fornito hai fornito un po' di risposte e di risposte ai nostri amici che ci seguono ci vediamo alla prossima ovviamente però poi è sempre disponibile c'è il podcast siamo anche sulla web radio quindi ci siamo sempre grazie Carlo ricordiamo Dimensione Bagno Pessano con Bornago via in Audi 34 telefono 02 9574 00 04 o il sito che è dimensionebagno.it ciao a tutti ci vediamo alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti